Questo modulo didattico affronta il tema della ricerca nello spazio degli stati utilizzando una funzione euristica. Si tratta di un notevole avanzamento nella direzione del realismo, cioè della reale applicabilità degli algoritmi di ricerca su problemi concreti. Il modulo è organizzato su tre unità didattiche. Nella prima, in questa prima, introdurremo il tema delle funzioni euristiche e della ricerca con le funzioni euristiche. La seconda unità didattica sarà dedicata invece all'esame dell'algoritmo principe in questo campo, che è l'algoritmo A star. Nella terza unità didattica vedremo i possibili superamenti dei problemi che A star non risolve. Poi avremo anche delle unità didattiche legate a questo modulo che riguarderanno l'implementazione di questi algoritmi in prolog. Dunque, partiamo allora innanzitutto spiegando quali sono le motivazioni dell'uso delle euristiche e poi cosa sono le euristiche. Le motivazioni sono appunto quelle che abbiamo già visto nel modulo didattico precedente, e cioè che fare ricerca nello spazio degli stati, anche se utilizziamo una ricerca in the first e quindi riusciamo magari a risolvere questo sì il problema della occupazione di memoria, rimane comunque un problema intrattabile normalmente nel tempo, se le soluzioni sono a profondità anche limitate, in problemi reali. Qui abbiamo per esempio il classico gioco del fila 3, che nella sua estrema banalità produce nello spazio degli stati un numero di nodi notevole. E poi anche un'altra semplicità è che questo qui non è un grafo nella sua generalità, è un albero, quindi sarebbe anche più facile fare ricerca all'interno di uno spazio degli stati che non è un grafo ma è un albero, nonostante la ricerca senza una qualche funzione guida che in qualche maniera possa orientare le scelte, rimane una ricerca certamente problematica. La ricerca, strategie di ricerca le abbiamo già discusse, le abbiamo viste nel modulo didattico precedente, qui è richiamato l'algoritmo più generico possibile, quello che fa ricerca proprio all'interno di spazi degli stati nella forma di grafi e quindi dovrà gestire in particolare una lista dei nodi visitati per evitare di incorrere nei cicli, cosa che in un albero non avremmo se lo spazio degli stati fosse organizzato come se fosse un albero. E comunque abbiamo visto che sostanzialmente la strategia di ricerca, che è quella strategia che poi porterà allo sviluppo dell'albero di ricerca, sostanzialmente corrisponde a decidere all'interno della lista di nodi che costituisce la frontiera dell'albero in espansione, quale nodo andare a scegliere per essere espanso. Quindi l'ordine con cui sono sistemati i nodi sulla frontiera è molto importante, significativo, quest'ordine sarà quello che distinguerà una strategia di ricerca dall'altra, in particolare abbiamo visto le due principali, la depth first e la breadth first. Quello che adesso andiamo a vedere, che è il superamento degli algoritmi che abbiamo appena visto, è cosa succede se sui nodi, oltre che l'informazione che fa parte proprio della descrizione dello spazio degli stati, cioè la natura del nodo, eventualmente il costo della mossa per passare da un nodo al successivo, c'è quindi l'etichetta dell'arco, abbiamo anche a disposizione un'altra conoscenza, una conoscenza che penso viene grossolanamente espressa come conoscenza di preveggenza in qualche maniera, che ci può dare delle indicazioni non di carattere assoluto e quindi significative al 100%, ma ci possono dare delle indicazioni circa quali sono i nodi che possono essere più promettenti all'interno della frontiera per essere espansi, perché più promettenti vuol dire che è più probabile che in qualche maniera possano condurre più speditamente verso il nodo obiettivo, il nodo o un nodo obiettivo. Se fosse disponibile questa conoscenza sarebbe molto utile e questa è quella che si chiama euristica. In pratica è una funzione di valutazione dello stato e quindi supponiamo per semplicità che questa funzione sia definita per ogni nodo dello spazio degli stati e quindi è una funzione che, dato il nodo, ci restituisce un numero intero o un numero reale. Quindi comunque è una funzione di valutazione di ogni nodo che va intesa come che è il grado di promettenza, sto usando un termine che non esiste probabilmente, cioè il grado di probabilità, però non è una vera e propria probabilità, quindi non vorrei usare questo termine, che espandendo quel nodo, quel nodo si possa più velocemente arrivare a trovare la soluzione. Quindi questa funzione deve dipendere dal nodo, ovviamente, il nodo, e verrà utilizzata la funzione euristica all'interno della funzione di ordinamento dei nodi sulla frontiera, che quindi per distinguerla dall'euristica la chiamiamo funzione di valutazione F. Quindi F è la valutazione che ingloberà in qualche maniera la conoscenza euristica, cioè la funzione euristica H. Quindi, che cosa chiedere alla funzione euristica? Facciamo delle, appunto, ipotesi che servono per restringere il campo dell'analisi e sono sostanzialmente che qualunque sia il nodo, la funzione euristica, rappresentando comunque un costo, simulando il costo, cioè il costo del percorso che bisognerà seguire da quel nodo per arrivare al goal, dovrà avere un valore positivo. E poi facciamo l'ipotesi che una volta che siamo arrivati al nodo goal, questa non è un'ipotesi, questa è una definizione, cioè fa parte del concetto stesso di valutazione euristica, se siamo arrivati al goal ovviamente la stima del costo, del percorso per andare dal goal al goal, che è appunto la definizione della funzione euristica, è zero, deve essere zero. Quindi con queste ipotesi andiamo a vedere alcune possibili funzioni euristiche. Allora, per quanto riguarda la ricerca di percorsi stradali, la più importante, significativa, effettiva, direi, la funzione euristica che può venire in mente è la distanza in linea d'aria, o su grandi porzioni di mappe terrestri, la distanza ortodromica, che è sicuramente una funzione euristica. perché è un'approssimazione, per difetto, questo è un concetto molto importante, del costo reale della distanza che si dovrebbe percorrere, comunque anche in condizioni di ottimaleità, per muoversi da un luogo all'altro della superficie terrestre. La distanza in linea d'aria, cioè quella che si dovrebbe percorrere in teoria con un aeroplano che partisse esattamente nella direzione verso la città di destinazione, dalla città di partenza, questa distanza sarebbe quindi un'approssimazione per difetto della distanza che un'automobile dovrebbe seguire su un percorso stradale terrestre. In un contesto, per esempio, di gioco, per esempio, nel gioco degli scacchi, una funzione di valutazione euristica per ogni stato della tastiera potrebbe essere il peso dei pezzi avversari, ovviamente che sono rimasti sulla scarchiera. e cioè facendo una mossa che mangia un certo pezzo sarebbe preferibile fare la mossa che mangia un pezzo che pesa di più perché così rimarrebbero dei pezzi sulla scarchiera che avrebbero un peso minore, quindi sarebbe più promettente quella mossa. però ovviamente non è detto che andare da una città ad una che è più vicina a linea d'aria alla destinazione sia la mossa più promettente, la mossa che sicuramente farà parte del percorso ottimale, non è detto che mangiare il pezzo sulla scacchiera più importante sia sicuramente una mossa che farà parte del percorso ottimale che porterà allo scacco matto. Non è detto, però entrambe queste funzioni euristiche sono da prendere in considerazione. Lo scopo appunto adesso di questa unità introduttiva è quello di capire in linea di principio quali sono i modi in cui potremmo prendere in considerazione questa funzione euristica. Ancora nel caso dell'N-Puzzle abbiamo almeno varie euristiche, due importanti che poi vedremo magari anche in seguito quando parleremo appunto delle euristiche e confronteremo le euristiche fra di loro per vedere se è possibile definire almeno un ordinamento parziale di bontà fra le funzioni euristiche. Potrebbe essere per esempio il numero di caselle fuori posto che non stanno al momento attuale, nello stato attuale, nel posto che dovrebbero stare nello stato gol. Questo potrebbe essere una euristica che potrebbe guidare le mosse. Allora, definita una funzione euristica per il nostro spazio degli stati, quindi una funzione che approssimi per difetto il costo reale che dovremmo sostenere per muoverci da quel nodo in cui stiamo verso il nodo gol, quindi chiaramente questa funzione euristica è sottintesa che è funzione anche del gol, ovviamente. Come possiamo utilizzarla? Allora, innanzitutto utilizzarla significa implementare una strategia non-bread first, non-depth first, quindi queste due prescindono dall'euristica. Se abbiamo un'euristica e la vogliamo utilizzare, si dice che in pratica vogliamo implementare una ricerca best first, cioè una ricerca in cui la successiva mossa che andremo a tentare è la mossa che è dettata da un criterio di miglioria che è in qualche maniera veicolato dalla funzione euristica, quindi parliamo di best first search. Allora, in linea di principio abbiamo tre grandi possibili strategie. La prima strategia che prenderemo in considerazione in questa unità didattica è la strategia di ricerca cosiddetta golosa, cioè quella di far coincidere la funzione di valutazione del nodo, cioè la funzione con cui saranno disposti i nodi sulla frontiera per poter essere successivamente espansi e si prenderà ovviamente il primo, quello che ha il ponteggio migliore, farla coincidere questa funzione di valutazione proprio esattamente con l'euristica. Si chiama funzione golosa perché praticamente in qualche maniera è come se questa euristica fosse una funzione, diciamo così, di piacere e in qualche maniera la venisse e la si utilizzasse senza alcun altro criterio di ragionevolezza e quindi si seguisse in qualche maniera solo l'istinto, l'istinto di fare la mossa più promettente secondo quella che è la funzione euristica e la valutazione della funzione euristica legata a quel nodo in cui stiamo in quel momento. Questa viene detta strategia golosa. Una strategia diametralmente opposta è quella di dire ok io la funzione euristica ce l'ho ma non la uso e quindi l'ordinamento dei nodi sulla frontiera è dettato solo da una funzione non di approssimazione del costo che avremmo per andare da quel nodo al nodo gol ma una funzione non di approssimazione ma una funzione reale già calcolata calcolabile perché conosciamo il costo delle mosse il costo della mossa per arrivare a quel nodo a partire dal nodo dove siamo partiti quindi questa funzione di costo la chiamiamo qui in questa presentazione la chiameremo G e rappresenta ripeto il costo per andare dallo stato di partenza fino al nodo in questione questo criterio di ordinare i nodi sulla frontiera in base al costo dei nodi stessi in realtà è una strategia comunque best first però l'abbiamo già introdotta nel modulo didattico precedente l'abbiamo chiamata uniform cost search che è anche il legame in qualche maniera che lega la best first search con la bread first search perché sappiamo che UCS si riduce alla bread first search se tutti gli archi, tutte le mosse hanno il medesimo costo e qui la prendiamo in considerazione perché ci dà in qualche maniera una specie di condizione al contorno così come la grid search per piazzare quello che invece adesso è proprio l'algoritmo di eccellenza che andremo a vedere nella successiva unità didattica che è l'algoritmo che meglio interpreta proprio il ruolo di ricerca best first l'algoritmo cosiddetto A che come funzione di costo prende la somma di questi due la funzione di valutazione del nodo prende la somma della funzione di costo reale per muoversi dal nodo iniziale fino al nodo in questione più questa funzione di promettenza che abbiamo detto essere leuristiche cioè questa stima approssimata per difetto se ce l'abbiamo ovviamente questa valutazione del costo che bisognerà successivamente sostenere dal nodo N per muoversi dal nodo N fino a un nodo destinazione, a un nodo obiettivo per motivi storici vedremo nella successiva unità didattica questo modo di comporre la funzione di valutazione dei nodi presenti sulla frontiera come somma del costo effettivo per raggiungerli a partire dal nodo di partenza più il costo stimato per raggiungere la coordinazione a partire dal nodo in cui stiamo si chiama A allora cominciamo a vedere la strategia greedy così come anche vedremo successivamente nella successione didattica l'algoritmo A applicandoli al database stradale della Romania qui abbiamo riportato il database che abbiamo usato come esempio nel modulo didattico precedente però qui a destra vediamo che abbiamo riportato anche la distanza in linea d'aria per muoversi da ciascuna di queste città a Bucharest e proprio questa distanza in linea d'aria come vi ho detto poco fa la possiamo prendere come funzione di valutazione euristica in pratica per poter lavorare cosa dovremmo fare? dovremmo calcolare questa distanza in linea d'aria in teoria se avessimo veramente un navigatore stradale e quindi la destinazione non sarebbe necessariamente un solo nodo come Bucharest in questo caso ma potrebbe essere un nodo qualunque quindi potremmo muoverci da qualunque nodo a qualunque nodo noi dovremmo calcolare questa distanza in linea d'aria per una qualunque coppia di nodi chiaramente tabellarla sarebbe molto molto impegnativo perché avremmo di nuovo bisogno di una tabella di due alla n archi avremmo un arco per il collegamento diretto e un arco per il collegamento in linea d'aria fra una qualunque coppia di città ma in realtà questo non è necessario perché se abbiamo proprio nell'esempio del caso stradale se abbiamo le coordinate latitudine e longitudine le coordinate geografiche delle città noi possiamo automaticamente con una semplice funzione andare a calcolare la distanza in linea d'aria siccome le coordinate geografiche queste sì le possiamo associare a ciascuna città essendo n le città avremmo semplicemente bisogno di due n coordinate abbiamo solo bisogno di due n coordinate non di due alla n valutazioni e quindi tutto sommato la cosa effettivamente si può fare tant'è che si fa qui cosa vediamo? vediamo che la distanza in linea d'aria fra Arad e Bucharest è 366 km la distanza in linea d'aria fra Bucharest e Bucharest è di 0 km ecco cosa vediamo? vediamo che questi numeri sono tutti positivi e per quanto riguarda il goal questo numero vale 0 e quindi effettivamente questa questa funzione di valutazione di ogni nodo dello spazio degli stati corrisponde alla definizione di una di una possibile euristica perché ricordiamo l'euristica deve essere positiva e deve essere 0 per il nodo destinazione quindi questa può essere un'euristica per questo spazio degli stati avendo come goal Bucharest allora in questa unità didattica andiamo a vedere come funziona la greedy search la greedy search utilizza come funzione di valutazione dei nodi presenti sulla frontiera esattamente la euristica quindi se partiamo come abbiamo fatto negli esempi del modulo precedente da Arad per andare a Bucharest all'inizio sulla frontiera ci sarà solo il nodo di partenza che ha una valutazione una funzione di valutazione dettata esattamente dalla euristica cioè 366 si espande il nodo Arad e dal nodo Arad si può andare ai tre nodi Sipio, Timishuara e Zerind e ciascuno di loro avrà una funzione di valutazione che è data appunto dalla funzione euristica 253 per Sibio è il più basso di tutti di tutte e tre Arad ovviamente come sappiamo scompare dalla frontiera perché è stato appena espanso e comunque aveva una funzione minore viene espanso Sibio Sibio viene espanso e da Sibio si può andare ad Arad o a Fagoras o a Oradea o a Riminico-Vilcea adesso facciamo l'ipotesi di non effettuare alcun controllo sui cicli e quindi tranquillamente rimettiamo Arad sulla frontiera e ci va a finire perché è il risultato dell'espansione di Sibio Sibio scompare perché è stato appena espanso ma non facciamo alcun controllo sui visitati e quindi Arad è sulla frontiera ma con il suo peso 366 attualmente sulla frontiera vediamo che il più promettente la città più vicina in linea d'aria a Bucharest è Fagoras e quindi scegliamo Fagoras per essere successivamente espanso da Fagoras si può tornare a Sibio che è a 253 km di distanza di andare da Bucharest oppure si può andare a Bucharest Bucharest come distanza di andare da Bucharest lo sappiamo è 0 e quindi adesso il prossimo nodo che è sulla frontiera la frontiera la vedete è costituita dai nodi in bianco i nodi grigi sono i nodi visitati tutti gli altri sono nodi che stanno sulla frontiera ebbene quello più promettente che è sulla frontiera è proprio Bucharest perché a distanza 0 viene selezionato Bucharest per essere espanso a questo punto ci rendiamo conto che Bucharest è il goal e quindi l'algoritmo termina abbiamo trovato il percorso il percorso è Arad Sibio Fagoras Bucharest la greedy search sembra una strategia buona anzi può sembrare anche ottima però continua a dire insomma nel sottolino sembra vediamo adesso perché non è ottima tanto vediamo prima di vederlo vediamo che in pratica quello che abbiamo fatto è abbiamo generato una sequenza di alberi all'inizio c'era un albero di cecco questo ovviamente in qualunque ricerca in spazio di stati e così si genera un albero che cresce quindi l'albero stesso potrebbe essere potrebbe in fondo questo ci ritorneremo nella prossima nel prossimo modulo didattico è interessante notare lo faccio adesso anche se forse sto un po' confondendo le idee che anche l'evoluzione stessa degli alberi potrebbe essere vista come uno spazio degli stati uno meta spazio degli stati la cosa è abbastanza interessante e la vedremo però quando avremo da esaminare gli algoritmi più realistici possibili in problemi estremamente complessi detto questo quindi avendo capito che noi abbiamo questo albero che si espande vediamo per quale motivo la grid research non è ottima beh più che vederlo vederlo per quale motivo lo vediamo proprio con l'esempio che abbiamo appena fatto la grid research ha prodotto il percorso Arad Sibio Fagares Bucharest se le mosse fossero state tutte dello stesso costo sarebbe stato il percorso ottimo solo tre mosse ma in realtà lungo questa direttrice abbiamo un percorso complessivo di 450 km invece sappiamo che il percorso ottimo è un altro l'abbiamo trovato con Astara che vedremo nella prossima unità didattica il percorso ottimo è Arad Sibio Rimini Pitesti Bucharest perché abbiamo una città in più un nodo in più ma la percorrenza complessiva è minore 418 km invece che 450 km quindi non è che abbiamo dimostrato che il grid research non è ottima abbiamo semplicemente mostrato un esempio e quindi ovviamente questo è già mostrare un esempio di non ottimale vuol dire dimostrare la non ottimale non è ottima perché come sappiamo abbiamo detto ma era ovvio che fosse così quelle sono mosse più promettenti ma potevano capitare anche cose insomma poteva esserci che addirittura la distanza poi fosse infinita nel senso che magari non so da quella strada che in linea d'aria è molto vicina al gol poi non esiste nessun percorso che effettivamente vada da quella strada da quella città al gol e quindi insomma questo era ovvio che la distanza in linea d'aria era solamente un'indicazione di promettenza ma non un'indicazione di certa ottimalità ci chiediamo anche se la grid search è completa perché vi ricordo che i benchmark che stiamo utilizzando per la valutazione di strategie sono la completezza la ottimalità la complessità nel tempo e la complessità nello spazio abbiamo appena visto che la grid search non è ottima vediamo se è completa e qui dobbiamo fare un po' un piccolo ragionamento sì diciamo che non è completa se non c'è il controllo dei cicli o siamo in spazi infiniti dove molti nodi possono infiniti nodi potrebbero avere la stessa valutazione mi spiego partiamo dal caso facciamo l'ipotesi che per esempio dalla città di Iasi dovessimo andare alla città di Fagaras Iasi è a 150 km di natale da Fagaras come si vede Nant è più vicina è a 120 km di natale da Fagaras come si vede in questa in questa estrazione dello schema dell'Atalanta stradale che però rispetta la topologia da Iasi possiamo anche andare a Vaslui che si trova in linea d'aria a 160 km da Fagaras quindi l'algoritmo Greedy quando espande Iasi che all'inizio c'è solo Iasi pone sulla frontiera due nodi che sono NEMT e Vaslui NEMT a 120 va su 160 e quindi verrà preso NEMT per essere espanso quando si va a espandere NEMT NEMT mette Iasi sulla frontiera e in questo esempio nessun altro perché supponiamo appunto che siamo arrivati al limite dello spazio degli stati e quindi non abbiamo la possibilità di andare da altre parti e a questo punto da NEMT possiamo solamente tornare a Iasi e anzi NEMT potrebbe avere anche la possibilità di andare a Iasi a questo punto sulla frontiera in realtà ci sarebbero Iasi e Vaslui Vaslui perché ci rimane dall'espansione precedente però il fatto è che fra Iasi e Vaslui quella più vicina dell'area è Iasi per cui verrebbe successivamente risselezionato Iasi che porterebbe poi a NEMT e quindi avremo qui un loop infinito quindi se non c'è il controllo sui nodi visitati la grid di search potrebbe tranquillamente andare in loop infiniti anche se ci fosse il controllo sullo spazio degli stati ma gli spazi fossero infiniti e ci fosse un insieme infinito di nodi che hanno la stessa valutazione euristica la ricerca a questo punto della grid di search potrebbe andare in questo diciamo ramo infinito in questo sottoalbero infinito e da lì non uscirebbe più non è il caso ovviamente della tante stradale perché la tante stradale ha un numero infinito di nodi qui l'unico problema sarebbe per la completezza della grid di search il fatto che non esaminiamo non facciamo il controllo dei dei nodi visitati allora se lo facciamo questo controllo dei nodi visitati e se abbiamo uno spazio di stati con un numero infinito di stati o se il numero di stati è infinito ma non abbiamo infiniti nodi che hanno la stessa funzione euristica a questo punto la grid di search effettivamente sarebbe completa quindi riepilogando la valutazione per la grid di search possiamo dire che per quanto guarda la completezza tutto sommato possiamo anche stare abbastanza tranquilli se facciamo il controllo sui cicli e quindi implementiamo un algoritmo di ricerca nei grafi e non negli alberi per quanto invece riguarda l'ottimalità certamente la risposta è no quindi se siamo interessati a trovare i percorsi ottimali la grid di search non fa per noi la grid di search comunque è una ricerca sostanzialmente in ampiezza perché tiene tutti i nodi sulla frontiera e quindi semplicemente li ordina con la la funzione euristica la valutazione della funzione euristica e quindi non ci meravigliamo che la complessità temporale sia la complessità temporale che la complessità spaziale siano esponenziali esponenziali peggio della della bread first perché mentre la bread first era ottimale quindi trovava sicuramente la ricerca il percorso ottimo e che nel caso della bread first che l'ottimalità si valutava in numero di mosse trovava per prima la la soluzione ha profondità minore e qui invece potremmo anche trovare una soluzione che ha una profondità non minore e quindi la complessità è sempre esponenziale ma direi veramente qui nel caso peggiore perché m sarebbe la profondità della della soluzione più profonda che potrebbe essere trovata quella che richiederebbe un maggior numero di mosse quindi la grid search non va bene non solo per la complessità che non guadagna in niente né in quella temporale né in quella spaziale ma soprattutto perché non trova il percorso ottimale al quale noi invece siamo interessati l'alternativa che abbiamo visto poco fa la prima alternativa sarebbe quella di rinunciare del tutto chiaramente è una scelta estrema di rinunciare del tutto alla funzione euristica a questo punto uno dice che l'abbiamo introdotto a fare ritorniamo quindi a un caso che conosciamo però lo riprendiamo a modo di confronto se rinunciassimo alla valutazione euristica come funzione di valutazione di nodi prendessero solo il costo la complessità riguadagneremmo l'ottimalità e avremmo confermeremmo comunque la completezza se il branching factor è finito e se il costo delle singole mosse è positivo ne abbiamo discusso di questo se il costo di una mossa fosse negativo e quindi ci fosse invece un costo un guadagno allora saremmo costretti a esplorare comunque tutto l'albero cioè tutto lo spazio degli stati e quindi la completezza si perderebbe nel caso di spazio degli stati infinito per quanto riguarda la complessità temporale e abbiamo visto l'altra volta che comunque siamo sempre in una complessità esponenziale sia per quanto riguarda il tempo che per quanto riguarda lo spazio quindi adesso noi che cosa faremo nella prossima unità didattica nella prossima unità didattica andremo a esaminare appunto l'algoritmo a star che a chiedo scusa e anche a star distingueremo nella prossima unità questi due casi e in cui avremo prenderemo effettivamente in considerazione la funzione euristica per la valutazione dei nodi sulla frontiera la valutazione della funzione di costo dei nodi sulla frontiera però lo faremo con appunto questo algoritmo che rappresenta un criterio di ragionevolezza particolare ed è un po' il criterio di riferimento per qualunque algoritmo che voglia utilizzare una funzione euristica per valutare le mosse da fare all'interno di una ricerca dello spazio degli stati con euristica euristica